bene facciamo un attimo un salto indietro prima di vedere la simulazione con gli splash questa è la simulazione con solo il domain quindi possiamo chiamarlo playblast o flipbook come vogliamo oppure semplicemente anche la preview della nostra simulazione con il solo domain che mi va a creare quindi il mio core principale della mia simulazione mentre questa è soltanto la simulazione con gli splash come vediamo questi splash sono molto molto meno rispetto a sono insomma un po le parti che ci interessano e adesso andandoli a vedere sommati sopra quindi il nostro core domain quindi sopra la simulazione con il liquido centrale e i nostri splash otterremo questo vediamo che sostanzialmente in alcuni punti abbiamo questi splash che vanno a generarsi e quindi questa simulazione che si va ad arricchire rispetto a non averli è logico che volendo quando possiamo andare a creare la mesh in questo caso li possiamo fare anche contemporaneamente potremo anche averli tutti insieme per poter creare al meglio una stessa identica mesh anche se io in fase di esportazione ho esportato il file in formato anche bin quindi volendo abbiamo sia il bin che possiamo poi ricaricare e creare anche separatamente la mesh sia per gli splash sia per la parte che ci interessa diciamo del core domain e in questo caso adesso poi vedremo come andare ad agire anche quando andiamo proprio a realizzare la mesh vera e propria volendo siccome io qui vedo poche diciamo particles possiamo alzare di un po le particles anche perché il tempo di calcolo per gli splash è stato di circa un'ora e dieci un'ora e un quarto mentre per il domain è stato di quattro ore e mezza circa quindi calcoliamo che il domain ha comunque una maggiore densità mentre gli splash in questo caso sono un pochino poveri se mi passate il termine quindi l'ideale allora sarebbe volendo alzare un po adesso vedremo se andavete ad alzare oppure no comunque si possono alzare leggermente in modo tale da avere un emission maggiore ad avere magari più densità di splash e quindi avere qualcosa poi che sia più gestibile a livello di visualizzazione un'altra cosa volendo potremmo fare è quello di andare a salvare le wet map ma per ora lasciamo perdere la questione wet map e concentriamoci un attimino sul discorso della nostra forma